Con il dialogo e l'ascolto possiamo costruire un mondo migliore, vincere la paura dell'altro e creare punti di comunicazione. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando 400 volontari del Telefono Amico Italia in occasione dei 50 anni di attività. Ascoltare chi è solo o cerca comprensione e aiuto morale, come fanno i volontari di Telefono Amico, è un servizio importante in un contesto sociale segnato spesso da isolamento e mancanza di dialogo. Per questo il dialogo e espressione di carità, ha spiegato il Papa, umanizza i rapporti e aiuta a superare le incomprensioni. Ascoltare poi richiede pazienza, attenzione e bocca chiusa. Dio stesso è l'esempio più grande di ascolto, quando preghiamo non chiede nulla e ci precede nelle richieste di aiuto. L'attitudine all'ascolto di cui Dio è modello ci sprona ad abbattere i muri dell'incomprensione, a creare ponti di comunicazione, superando l'isolamento e la chiusura nel proprio piccolo mondo. qualcuno diceva, per fare la pace nel mondo mancano le orecchie, manca gente che sappia ascoltare. E poi dice, e lì viene il dialogo. Papa Francesco ha concluso il suo saluto invitando i volontari di Telefono Amico a proseguire nel prezioso servizio, perché non si spezzino i legami del dialogo e perché non venga mai meno l'ascolto, che è la manifestazione più semplice di carità verso i fratelli.